Ciao ragazzi, ben arrivati! Oggi MaxDevil ha una novità per voi, i guanti Lika! Per tutte le fans che si trovano sotto palco, è un bel prodotto! Potete trovarlo sul nostro sito internet www.maxdevilstore.com oppure live durante il tour dei palazzetti. Questo guanto è anche touchscreen, vedete le mie dita? Vedete? Guardate! E touchscreen! Così non potrete perdere neanche un'occasione, continuate a fare foto e video e potete pubblicarli sul nostro sito di Facebook oppure mandarci una bella email, come volete. Mi raccomando, vi aspettiamo! Ciao!